Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata della nostra rubrica la bici della settimana oggi abbiamo una bici veramente speciale che viene dalla Svezia ma prima di cominciare vi pregherei di iscrivervi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e se volete supportarci di comprare un abbonamento da solo 1,99 euro al mese il cui link trovate qua sotto nella descrizione inoltre vi ricordo che tutte le vostre bici sono benvenute se montate in una maniera abbastanza speciale in modo da farle vedere e apprezzare a tutti quello che serve è una lista di componenti come questa da mandare all'indirizzo mail staff at mtb mag punto com insieme ad un video in formato orizzontale in alta risoluzione e molto stabile quindi se usate il telefono state molto tranquilli con la vostra mano da mandare tramite we transfer sempre al solito indirizzo email la bici di oggi è una scott spark completamente rivista da un personaggio che forse conoscete già si tratta dello svedese dangerholm o meglio del norvegese che vive in svestia dangerholm ecco qua lo vedete in foto con un'altra scott infatti lui è un preparatore di telaie di bici in particolare scott ma andiamo a vedere nei dettagli la bici di questa settimana si tratta di una scott spark rc sl in taglia l dangerholm a scartavetrato completamente il telaio originale per poterlo pitturare del bianco che vedete qui nel video anche la forcella è stata modificata innanzitutto per il colore e poi vedrete anche per il passaggio cavi del live valve cioè il controllo elettronico delle sospensioni dangerholm ha eliminato il supporto per la tubazione del freno la forcella è una forcella particolare perché è sì una fox 34 ma è dotata del sistema fox live valve cioè il sistema di controllo delle sospensioni che ho personalmente testato qualche anno fa quella che vediamo qui per esempio è la centralina che dà sia l'energia al sistema sia che controlla come devono rispondere le sospensioni sia ammortizzatore che la forcella rispondono alle sollecitazioni che vengono dal terreno tramite degli accelerometri posti sulla bici in diversi punti che mandano le informazioni a questa centralina che a sua volta le rimanda alle sospensioni permettendo loro di aprirsi o di chiudersi veramente una velocità spaventosa del tipo che se le sospensioni sono chiuse uno colpisce una radice e prima che il colpo arrivi le mani le sospensioni sono già aperte il problema di questo sistema è che è cablato quindi tutti i cavi di solito non sono molto belli da vedere e questo è stato un bel lavoro da parte di dangerholm portare tutti i cavi internamente al telaio e al manubrio il manubrio ovviamente è stato scartavetrato anch'esso è un manubrio sincro superleggero qui rivediamo la forcella scartavetrata e riverniciata e appunto facendo passare i cavi all'interno la bici rimane molto pulita pur avendo il sistema di controllo delle sospensioni i freni sono i trickstuff piccola carbon modificati per poter permettere al cavo di poi infilarsi dentro il manubrio quindi di sparire dalla vista per far passare il cavo interno manubrio è stato necessario modificare anche il cannotto della forcella qui infatti lo vedete tagliato e lo vedete anche fresato per far posto al multi tool edc della one up components che viene posto appunto nel cannotto della forcella da lì poi i cavi passano dentro il tubo obliquo essendo la trasmissione una sram eagle a xs quindi elettronica e wireless per comandare il sistema sia del cambio che del gisella dangerholm ha creato dei comandi estremamente minimali le cui parti elettroniche sono state nascoste dentro al manubrio stesso il risultato sono quindi queste micro leve da azionare verso l'alto verso il basso una accanto alla manopola destra e l'altra accanto alla manopola sinistra per il gisella telescopico il deragliatore posteriore è stato poi modificato con dei componenti dei ceramic speed vediamo la trasmissione nella sua interezza con una cassetta garbarucca 12 velocità 10 50 una catena ceramic speed ufo e la guarnitura tune black foot invece la corona è una garbarucca da 40 denti bella massiccia ma è una bici da cross country anche se non so chi possa pedalare 40 denti qui vediamo di nuovo i dettagli dei freni trickstaff piccola il tappo che vedete qua sotto è il tappo della one up components per il multi tool modificato per farci passare sia il tubo freno sia i cavi del live valve di fox qua vediamo altri dettagli del tubo sterzo della verniciatura veramente curata nei minimi dettagli e qua vediamo di nuovo dei dettagli dei freni trickstaff piccola modificati per il passaggio interno dei cavi tutto veramente estremamente minimalistico e qua veniamo a una chicca infatti guardate per evitare che lo sterzo ruotando tronchi le tubazioni e i cavi elettrici del sistema live valve di fox è stato realizzato una specie di stop per la forcella in alluminio successivamente questo è stato fissato il telaio affogandolo sotto a nuovi strati di fibra di carbonio questo stopper diciamo è stato veramente integrato bene nel telaio guardate qua i dettagli a fine lavoro non si nota neanche se non per quella piccola protuberanza alla fine del tubo orizzontale anche con il porta garmi attaccato alla serie sterzo ed eccoci qua a reggisella telescopico reverb axs questo aggiunge un bel peso perché anche solo la batteria sotto la sella è pesante rispetto a reggisella classico quindi considerate che se fosse montato un altro reggisella il peso andrebbe giù ma appunto lui voleva evitare i cavi veniamo adesso un'altra chicca di questa bici cioè le ruote syncros silverton sl full carbon con cuscinetti ceramic speed la particolarità di queste ruote è che sono completamente in carbonio ma anche con i raggi praticamente e il cerchio un pezzo unico e pesano solo 1250 grammi nella loro versione da 29 pollici la bici così come la vedete pesa 10 chili e mezzo c'è poi un'altra versione che potete vedere su mtvmag.com che pesa solo 9 chili e 820 grammi però appunto non ha il reggisella telescopico tengeron ci ha detto che questo secondo lui è la direzione che prenderanno le bici fra 5 10 anni non resterà da vedere se ha avuto ragione in ogni caso si tratta di una bici veramente speciale un vero spettacolo per gli occhi che vi invito a riguardare e se volete guardare con tutta calma le foto qua sotto nella descrizione trovate anche il link al nostro articolo su mtvmag.com vi ringrazio di avermi seguito e ci vediamo la prossima settimana ciao